Una rete di conoscenze, professionalità e competenze per dare impulso all'offerta ricettiva del territorio valorizzando il turismo nautico che in sostanza arriva sulla costa in barca, trascorre qualche giorno in città e in altri angoli del Molise, ne apprezza le bellezze e le iniziative. Una sinergia con il sistema locale di offerta condivisa alla sede termolese dell'università dove sono intervenuti esperti, operatori e gli studenti dei corsi di laurea in scienze turistiche, turismo e beni culturali e delle scuole superiori tra gioneria e l'alberghiero. Sono intervenuti tra gli altri Monica Meini, vicepresidente dei corsi d'Ateneo, il giornalista Mauro Menzietti, Luca Monterumici di Seaways, la preside dell'alberghiero Maria Chimisso e il vicepreside del Boccardi Tommaso Guerrera, così Angelo Marinucci, direttore del porto turistico Marina di San Pietro. Un aspetto importante è quello legato al gusto, alla passione per la cucina, per le nostre tradizioni culinarie. Ha dei risvolti economici molto importanti, per un motivo molto semplice, perché portare un diportista nel territorio e trattenerlo offrendogli delle cose più interessanti da fare, in tre, quattro giorni di gite sostanzialmente, ci aiuta a mantenerli. Un'occasione per premiare gli studenti che hanno partecipato al concorso sul turismo nautico e le opportunità per il territorio. Due settimane per realizzare un vero e proprio itinerario da presentare ai turisti che sbarcano a Termoli e si preparano a trascorrere qualche giorno sul territorio molisano, prima di tornare a bordo. Ad aggiudicarsi la gara il gruppo Molisando, nato da un'esperienza tra parapendio e fattoria. L'iniziativa è stata coordinata dal professore Angelo Presenza. È fondamentale in cui iniziare a ragionare in rete. In rete vuol dire mettere insieme i diversi saperi, le diverse professionalità, per costruire un prodotto, un pacchetto, appunto, che vede il territorio non più come singole parti, ma come un'unica orchestra. in pratica una commissione.